Le persone con sindrome di Lazzaro non sono mostri, sono proprio come te. I sintomi della sindrome di Lazzaro possono includere apparenti morti e rianimazione del corpo, bassa temperatura corporea, rush cutaneo, un respiro meno efficiente con frequenti ansi mare, un cattivo odore, parziale mancanza di memoria, aggressività nei confronti delle persone con l'impulso di mordere gli arti delle persone. Paziente di Lazzaro ha bisogno di cure mediche, non è necessario il vostro timore.